Buonasera signore e signori sono Ash88 Non sono qui per caricare una parte di Latinello Ma per farvi vedere che finalmente Sono online con le sfide Pokemon Infatti ho scaricato questo programma Pokemon Online Che mi permette di combattere contro Numerosissime persone Vedete il mio nome e tutte le mie informazioni Su server di tutto il mondo Si chiama Pokemon Online Cercate di scaricarlo Io sono qua sul beta server Per sfidarvi Non sono un grandissimo campione Infatti avrò perso una quindicina di volte 22 Comunque sia Se volete venire a giocare a questo gioco Comunque sia io ci sono E almeno potremmo divertirci insieme Passare qualche pomeriggio E magari anche registrare qualche partita Quindi questo piccolo video di informazione è terminato Votate, commentate, iscrivetevi Ciao da Ash88